Adesso è il momento di andare in Sicilia, so che anche voi sentite questa forte esigenza, anche perché lì è ancora estate, a Cefalù, vicino a Palermo, c'è Igor Scalisi Palminteri e soprattutto il suo murale. Quindi mi collego con Igor che ci racconta cosa sta succedendo. Buonasera Igor! Ciao, che felicità! Ciao, grazie! Grazie, siamo qui a Cefalù e sto dipingendo un grandissimo murale dedicato alle donne contro il femminicidio. Si intitola Tirissi no, che in palermitano vuol dire ti ho detto no. Chiaramente noi ci auguriamo che le donne ci dicano di sì, ma se dicono no dobbiamo rispettarle e quindi è lo slogan che hanno coniato le palermitane di non una di meno. e sono felice di scriverlo su questo muro perché credo che la voce di un uomo, la voce degli uomini si debba far sentire e dobbiamo prendere posizione contro questa violenza che si continua a perpetrare. È un luogo speciale per te? Siamo nella periferia di Cefalù, spesso lavoro nelle periferie della mia città, che è Palermo, che è qui vicino, nei luoghi più fragili, con le persone marginate e che sento che mi rappresentano e voglio rappresentarle dipingendo. Quindi anche in questo caso abbiamo scelto questo luogo che ha bisogno di voce, è un luogo molto bello, Cefalù è uno dei posti più belli del mondo, con un duomo straordinario, il comune ha accettato di buon grado di sostenermi in questo progetto e sono felice di dipingere qui questo muro. Ma scusami Igor, tu sei con uno con la telecamera sul trabattello? Esatto, siamo su una piattaforma aerea, qui sospesi in aria. Ma poi scende, mi fa vedere tutta l'opera finita, vero? Eh certo, lo stiamo preparando per questo dipinto tutto il giorno, perché poi ti voglio fare vedere quello che è il risultato finale, poi scendiamo, sì. Grazie, grazie Igor.